Ho trovato molto centrato il passaggio del professor Pizzetti laddove è nuclea proprio in cosa consiste il cambio di prospettiva, cioè il passaggio da un rapporto statico e proprietario tra titolare ed interessato ad un rapporto dinamico tra titolare e collettività, che è basato sulla valutazione del rischio. Il cambio di prospettiva secondo me si basa su due parole chiavi, una è appunto la tutela collettiva, l'altra è la cyber safety e mi spiego meglio. Per spiegarmi meglio faccio immediatamente un parallelo e immagino che le imprese che si trovano oggi ad affrontare il GDPR possano essere paragonate ragionevolmente, ce l'immagino di fantasia però me le vedo bene, come le imprese italiane che nel 1899 si trovarono di fronte al primo regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Perché faccio questo passaggio? Perché in realtà oggi più volte da più persone è stato citato il fatto che i dati sono il petroglio del nostro millennio, così come l'importanza del petrolio è stata la base portante della rivoluzione industriale. Allora nella rivoluzione durante o a margine della rivoluzione industriale solo una regolamentazione di stampo collettivo riuscì a garantire una tutela effettiva del diritto alla salute dei lavoratori a prescindere dallo specifico rapporto contrattuale di lavoro del singolo lavoratore con il suo datore. Ove far valere il diritto alla salute poteva essere assolutamente ostico se non quasi impossibile. Nello stesso modo oggi la rivoluzione digitale, cosiddetta rivoluzione digitale, ci sta portando verso una dimensione collettiva del diritto alla protezione del dato personale. Attraverso un ulteriore passaggio concettuale che è quello che a me piace definire cyber safety. Noi molto spesso in questi convegni dove si parla di regolamento ci addentriamo e analizziamo e approfondiamo il discorso della cyber security. che è vero, che c'è e che ci sta, ma che è quel meccanismo di misure che sono adottate o che debbono essere adottate per proteggere un sistema da attacchi che vengono dall'esterno. Quello che invece ci chiede è il regolamento e ce lo chiede in diverse norme, ce lo chiede nell'articolo 32 che riguarda per l'appunto le misure di sicurezza, 33-34 sul data breach, il 35 sul DPA, ma anche il 25 su data by design e by default, ci dice di valutare il rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui il diritto alla protezione dei dati personali. Allora, questo significa che dobbiamo fare riferimento ad un concetto di sicurezza, che in italiano sempre sicurezza è, cioè il termine unico, la nostra lingua è ricchissima, ma in questo caso è un po' carente, ma non solo come sicurezza informatica, ma come sicurezza del trattamento, quello che diceva anche il professor Pizzetti, per raggiungere che cosa? Per raggiungere un sistema che non causi dei danni alle persone. Ovviamente, facendo e riprendendo il parallelo con la normativa antifortunistica in materia sui luoghi di lavoro, è chiaro che è molto più immediato per tutti noi percepire un concetto di safety relativo e relazionato alla salute fisica di un soggetto, che è appunto la sicurezza e la salute dei lavoratori. Però noi siamo nel mondo digitale e quindi accanto ad un corpo fisico dobbiamo cominciare a masticare il concetto di corpo digitale. E allora la safety digitale è proprio la salvaguardia di tutti gli aspetti che riguardano un individuo, che non sono tanto il singolo dato o la sommatoria di dati in sé, ma sono l'insieme di dati che in una dimensione dinamica rappresentano una persona fisica. Allora, in questo senso il passaggio è tutela collettiva che è data dal regolamento in questo passaggio di prospettiva da un rapporto strettamente bionivoco titolare interessato ad un rapporto che invece si basa su una valutazione del rischio molto simile a quella appunto antinfortunistica, ma ce ne sono tante di similitudine a partire dal parallelo che si può fare tra l'RSPP e il DPO ad arrivare anche a un discorso più generale proprio sul fatto che ci sia un documento della valutazione dei rischi esattamente negli stessi termini previsto dal regolamento privacy e dalla materia antinfortunistica. Allora, questa dimensione collettiva e questa dimensione di sicurezza non tanto del corpo fisico ma del corpo digitale è il cambio di prospettiva, a mio modesto avviso. Certo che poi, come dire, il legislatore dovrebbe, come dire, in qualche modo aiutare poi il mercato nel, come dire, nel adempiere a questi oneri che derivano dal processo di accountability e faccio un esempio. Il GDPR all'articolo 33 e 34 prevede il tema delle notifiche in caso di data breach. Non è l'unico. Noi abbiamo un adempimento simile previsto dall'articolo 19 del regolamento EIDAS per quel che riguarda i data breach dei dati che sono trattati dai fornitori di servizi fiduciari. Abbiamo o avremo a breve, perché è in corso la fase di attuazione, la notifica del data breach previsto dalla direttiva NIS. Avremo un data breach legato al regolamento E-Privacy? Allora, ce ne sono tanti. Alcuni di questi sono evidentemente sovrapponibili, perché ci sarà comunque sempre una questione di dati personali. A chi notifichiamo? Allora, in questo momento noi abbiamo la notifica prevista dal regolamento al garante per la protezione dei dati personali, la notifica EIDAS in capo all'Agit, la notifica del NIS dovrebbe andare in capo al CSIRT italiano, cioè il gruppo di riferimento, che poi a sua volta manda all'autorità competente. Ce ne sono cinque, perché sono cinque ministeri previsti. Il regolamento E-Privacy non sappiamo dove andrà a finire, però pare comunque che confluirà nel garante per la protezione dei dati personali. In altri paesi, tipo in Gran Bretagna e in Francia, hanno cercato di far confluire questo obbligo di notifica in capo, se non allo stesso soggetto, quantomeno a due soggetti con delle linee guida che sono adottate in comune e quindi la povera, scusatemi il termine povera nel senso che lo uso in senso ovviamente così eufemistico, la povera impresa non è costretta a fare cinque notifiche diverse, con modelli diversi, formulari diversi, che richiedono cose diverse ad autorità che probabilmente poi reagiranno in modo diverso. Ecco, allora, se è vero che il cambio di prospettiva c'è e io lo individuo per dare un'idea di come poter adempiere, proprio in un sistema che è molto simile a quello dell'antinfortunistica, quindi che cos'è la valutazione dei rischi in campo GDPR? Beh, immaginate quello che state facendo anche in capo alla materia appunto del diritto del lavoro, di protezione del lavoro. Una tutela collettiva, va bene tutto, va bene la responsabilizzazione, ci siamo però poi in qualche modo le regole comuni, quelle che anche il segretario generale ha invocato questa mattina, le regole comuni ci debbono essere, ci debbono essere proprio per non complicare inutilmente la vita alle imprese, perché questa è una complicazione inutile. Io vedo molto, come dire, necessaria e anche fattibile, forse non subito ci dobbiamo proprio ancora un po' abituare anche a livello di approccio culturale, però fattibile il discorso dell'accountability, certo che se poi il legislatore italiano, che non è quindi quello europeo, ma quello italiano, poi non agevola l'adempimento, ma mette degli inutili paletti alle imprese, ecco allora poi questo diventa invece, ahimè lì il problema, è quello che può forse poi togliere un po' di competitività alle imprese italiane. Quindi io concludo dicendo che in realtà la sfida credo sia solo l'inizio, è chiaro che il nuovo regolamento chiede un diverso approccio culturale rispetto al codice privacy, che ha funzionato benissimo per quello che era la sua finalità, ha funzionato benissimo sostanzialmente come un processo di alfabetizzazione. Oggi occorre fare un salto di qualità, occorre andare oltre, occorre andare oltre ai meri adempimenti formali, l'informativa, il consenso, la firma, la nomina dell'incaricato e non bisogna neanche pensare che in realtà si tratti di obblighi imposti dall'alto, le misure di sicurezza. Certo che un po' ci confortavano perché se era il legislatore stesso a dirmi devi fare ABC nel momento in cui facevo ABC io ero tranquillo, ma non si tratta più di quello perché magari ABC per un'impresa che tratta dati comuni può essere addirittura ridondante mentre invece ABC per un'impresa che tratta dati sensibili o supersensibili può non essere sufficiente. Quindi è chiaro che il processo di responsabilizzazione va proprio ad incidere su quello e incide in modo particolare su quello che è effettivamente l'approccio che consente di tutelare in forma collettiva, in misura migliore, la safety digitale dei cittadini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.